La bici argento che fa veloce e mi porta a te Ultimo strappo e poi laggiù l'orizzonte traguardo blu Perché sono come una formica, sudo ma non mollo mica Corro lungo le strade, chiamano il silenzio il tuo nome Pedalo, non mi fermo mai, sudo, corro, tremo e poi gira, giro, gira, giro, gira Ci soffro la salita e poi lancio la discesa che gira, giro, gira, giro Ecco, c'era delicato Saluta tutti a casa Saluta tutti i sposi Il numero uno è tanto tempo che non lo vedo E' il numero uno che è la A.S.Roma Numero 10 dai E' il Nandareno Il mio Nandareno che è stato via Ti faccio il servizio che si udiva, i favoriti del mio Italia E lo ricerco tutte per me Per il sabbolo, per il sabbolo, 8 maggio, la prima, la prima trasmissione di raggio di partenza Condotta da Tommaso, tre carrozzi E sarà sicuramente il canto, tanto da Il direttore ha mantenuto la promessa Il direttore ha mantenuto la promessa, Bulbarelli Grazie, grazie Di nuovo ad Auro Bulbarelli Ad Alessandro Fabretti Alessandra Di Stefano che sono coloro che sono il mio sicurismo, quindi comunque quest'anno ci saranno di non denudere nessuno. No, ma sei tutto onoreissimo, guarda, con la lavagna ha detto che è un caldo, ormai la tua lavagna è una cosa eccezionale. L'onore è stato tutto il direttore, tutto Auro Puntagetti, anche perché mi ha cambiato la lavagna, mi ha messo la lavagna vera, la lavagna è alla scuola. Veramente è stata la scuola, la lavagna è stata la scuola, quindi sono molto su Auro, prima c'era una lavagna, però forse perché Auro contiene che è il momento in cui c'è il massimo racconto. Il pronostico di Gigi Sgarbozza è il momento caldo della trasmissione, poi da quando è stata istituita con la lavagna classica delle scuole, è proprio un momento didattico imperdibile. Ma qui nessuno si arrende mai, sono pronto al sorpasso dentro me, tutto è cambiato e non so perché, perché ora non sono più formica, io sono un razzo in alta quota. Fami di fare una ripresa a pozzo, va! Sei riuscito adesso? Eh sì, io chiedo! No, 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 no! Amen